C'è chi è andato a Sanremo già sicuro di portare a casa un premio. E' Malavoglia, cantautore vogherese e vincitore lo scorso dicembre a Teramo del premio Pigro dedicato a Ivan Graziani. La cerimonia di consegna si è svolta durante i giorni del festival a casa Sanremo Underground dove Malavoglia è ricevuto il riconoscimento dalle mani di Anna Bischi, vedova di Ivan Graziani. Già per me è essere il posto di Ivan Graziani che è stato uno dei miei idoli da bambino che è stato a cantare prestissimo le sue canzoni. Malavoglia si è esibito nella cover di Pigro accompagnato dal bassista di Sommo Francesco Tirpi. La vittoria come miglior testo nel premio dedicato a Ivan Graziani era però arrivata con in brano Sei bravo o ma? Dimmi come faccio a prendermi sul serio, intanto anche fossi vasco qualcuno ti dirà Sei bravo o ma? Sei un po' in ritardo? Sei bravo o ma? E' trago a presto? Sei bravo o ma racconta i tanti no che chiunque si sente rivolgere nella vita. La canzone era stata presentata a Sanremo Giovani nel 2018 ma non era mai stata pubblicata. Ora è arrivato il momento con l'uscita programmata per la fine di febbraio. Mi piace anche un po' poi scherzare ironizzando un pochino su quello che è fare musica ma poi non solo fare musica perché poi mi sembrava raccontare in maniera ironica le porte in faccia che prendiamo tutti.